Musica Buonasera dal telegiornale di TSD, librerie giunti al punto grazie al sostegno dell'azienda Svi in collaborazione con il comune di Marciano della Chiana e Lucignano promuove il progetto Aiutaci a crescere, regalaci un libro, un'iniziativa dedicata a promuovere la lettura e l'educazione nelle scuole Vediamo il servizio Come sempre la Svi è attenta al territorio ma non solo attenta anche a ciò che fa per il territorio come questa è una di quelle iniziative che fanno bene al cuore perché guardano al nostro futuro guardano al futuro dei nostri ragazzi quindi donare dei libri ai nostri plessi che sono l'infanzia e la primaria significa formare dei ragazzi fin dalla primissima età e saranno adulti migliori proprio perché hanno avuto una formazione migliore Io devo dire che in questo territorio grazie alla Svi, grazie soprattutto alla nostra formazione alla qualità della nostra scuola, a quello che investiamo come amministrazioni comunali qui possiamo dire che davvero la scuola può fare la differenza e non soltanto nella formazione ma anche proprio come servizio alle famiglie Ovviamente essendo docente credo nella cultura profondamente è una cultura che comunque non è solo a parole ma è una cultura di fatto io la chiamo una cultura di fatto cioè il sapere perché comunque è tramite il sapere che si diventa grandi si amplia la mente e quindi il sapere è alla base di tutto Stasera tra l'altro ero anche un attimo emozionata anche se orgogliosa di essere qui perché avevo le mie colleghe davanti a me e quindi fare il sindaco davanti alle mie colleghe insomma è stato un pochino più difficile che in altri momenti però ovviamente gli auguri a loro e a tutti i miei alunni senz'altro non solo ai miei alunni ma a tutti gli alunni Crediamo molto diciamo nella formazione dei ragazzi i ragazzi oggi piccoli domani diventeranno degli uomini quindi avere la possibilità di leggere dei libri potersi formare è per noi diciamo motivo di orgoglio nell'aiutarli a crescere cioè bisogna diciamo portare questi ragazzi a capire che la realtà della vita è diversa da quella che viene rappresentata nei telefonini e nei social la vita va vissuta con tutti gli aspetti della società La lettura deve essere un piacere è una proposta che noi facciamo in tutte le nostre scuole e al di là della bellezza del libro cerchiamo di rendere anche l'ambiente accogliente sembra una cosa da poco ma per i bambini e le bambine rappresenta un elemento di benessere di star bene perché a casa dove si legge il libro si legge sopra il divano, sul letto, sdraiati a terra a scuola non si può leggere soltanto sul banco seduti come se facessimo un compito dobbiamo leggerlo con piacere quindi nelle nostre scuole stiamo cercando di creare angoli in cui anche il poter rendere la lettura confortevole possa diventare come dire la spinta per invogliare i nostri bambini e i nostri bambini alla lettura A Torrita di Siena è stata inaugurata la prima tunnel farm in Italia vediamo di cosa si tratta La tunnel farm è finalmente realta a Torrita di Siena dove sono stati inaugurati la vertical farm e il percorso sotterraneo che attraversa il centro storico la galleria usata per secoli come magazzino e 80 anni fa per rifugiarsi dai bombardamenti aerei è divenuta un itinerario espositivo dedicato alla tradizione agricola del territorio che giunge all'orto verticale, esempio di coltivazione assolutamente innovativo di ortaggi Ecco una funzione da economia circolare sostenibile perché le piante e conseguentemente gli ortaggi e tutto quello che emerge in questo che è il primo approccio del tunnel consentono di avere prodotti della terra unici 12 mesi su 12 e addirittura arricchiscono la messa della scuola proprio come ci veniva spiegato Il fatto di restituire ai cittadini il passaggio da un lato all'altro di un centro storico come quello di Torrita è veramente una cosa che come si diceva c'è in Giappone e c'è in Gran Bretagna ora c'è anche in Italia grazie a Torrita, al sindaco Grazi, a Enel Rosignoli che è la nostra consigliera regionale e insomma tutto questo diventa davvero oggetto di forte curiosità ma anche attrattiva e rettolita è un primo esempio italiano di struttura di questo tipo realizzata in sotterranea e in realtà ne esistono pochissimi altri esempi al mondo uno è a Londra e uno è in Giappone ma la particolarità del nostro orto verticale, della nostra vertical farm è che è la prima pubblica cioè voluta e per cui un'amministrazione comunale ha investito per la sua realizzazione Perché abbiamo realizzato questa cosa? Perché grazie alle caratteristiche del tunnel cioè alla temperatura e all'umidità che si mantengono dentro il tunnel riusciamo a coltivare senza consumo di energia o comunque con un consumo di energia molto limitato rispetto ad altre tipologie di vertical farm le piante che voi vedrete Ci spostiamo adesso a Monte Pulciano dove si è chiuso l'anno con Tradaiolo Una chiusura dell'anno con Tradaiolo dei Bavio delle Botti 2023 è particolarmente emozionante che oltre alla consegna dei premi e dei riconoscimenti è stata annunciata anche da reggitore Andrea Biagianti l'assegnazione da parte del Ministero della Cultura di 18.500 euro grazie alla partecipazione al bando delle manifestazioni storiche adesso testa all'edizione del 2024 la cinquantesima per il Bavio delle Botti Oggi abbiamo chiuso l'anno con Tradaiolo con un bilancio estremamente positivo è una bellissima notizia il finanziamento anche quest'anno del Ministero della Cultura per 18.500 euro dal fondo rievocazioni storiche un risultato importantissimo che dimostra le capacità del magistrato delle contrade anche il coraggio e la programmazione di aver creduto in questa possibilità dal 2020 in poi abbiamo consegnato i premi tra balzini e l'arca d'argento ai migliori tamburatori e ai migliori sbandieratori e al miglior corteo ma soprattutto abbiamo già iniziato a interrogarci sulla prospettiva il 2024 vedrà compiere a questa manifestazione 50 anni abbiamo bisogno di pensare sia alle cose che funzionano ma anche alle cose che possiamo migliorare soprattutto cercare di incentivare la vita delle contrade durante l'inverno cercare di rafforzare anche il magistrato delle contrade in termini sia di partecipazione ma anche di ricambio generazionale e soprattutto anche immaginare una nuova struttura giuridica per il magistrato e soprattutto cogliere questo traguardo dei 50 anni che è un traguardo molto importante cercando di inserire nuove iniziative e consolidare una manifestazione che è diventata la memoria storica di questa città ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per essere stati con noi e buon proseguimento arrivederci grazie a tutti